Milana Milano ha ricordato il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Sua moglie Emanuela Seth Carraro e l'agente Domenico Russo. Uccisi dalla mafia a Palermo il 3 settembre 1982. La cerimonia si è svolta nel monumento al carabiniere a Piazza Diaz. Nel 41esimo anniversario delle loro uccisioni. La cerimonia ha partecipato il consigliere per la sicurezza Marco Granelli. I rappresentanti dei carabinieri. Le autorità civili e militari. Sarà presente il consigliere per il welfare e la salute. Lamberto Bertolet. Citizens. Association and Institutions si incontrerà per un momento di memoria. Sono previsti gli interventi delle famiglie della Chiesa e dei sessi Carraro.